Oddio fa un suono paradisiaco, prova a dare un boccone tè, eccoli qui, fa un suono stupendo Ciao, grazie di essere qui, 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 con me Oggi, 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 oggi Vi porto un video che letteralmente penso sia stato il video più richiesto di, penso sia stato letteralmente il video più richiesto a me, da parte vostra Di sempre, sempre, sempre Mi è arrivato almeno, ma dico almeno, è da tre mesi che mi arrivano tutti i giorni i messaggi in cui mi passate dei video in cui c'è questo trigger Che si chiama Zuppa di legno Wood Soup E veramente non ne avrò ricevute centinaia di richieste, quindi finalmente ci siamo Ho deciso di portarvi questa inquadratura perché secondo me è molto meglio che un'inquadratura in cui ci sono anche io Sarebbe stata una metà non bella da vedere Cioè, metà non è metà, non lo so Quindi Ho tante cosine in legno E oggi andiamo a fare una zuppa di legno ben saporita Ok Cominciamo Cominciamo direttamente con la parte più saporita Che sono questi pasticcini Ce ne sono nove E Andiamo a sceglierne, diciamo, tre I più bellini, secondo me Sicuramente questo viola Andiamo a metterlo Nella ciotola Abbiamo poi, direi, questa Torta alle fragole E la andiamo A mettere E poi a me piace molto questo al cioccolato Che venite? Voi quali avreste scelto? Avreste scelto magari questa al mazzo O questo cioccolatino qui Ditemi Li metto via Li faccio vedere bene Questo appunto è quello Questo appunto è quello al cioccolato Con penso delle ciliegine 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 Con tutti gli strati Con la panna Abbiamo questa tortina Con un fiorellino Tipo velvet cake E infine abbiamo questo pasticcino Molto più particolare Non saprei neanche dirvi Che gusto sia Ma solo della panna Qualcosa lilla Qualche sprinkle Sopra E la carta rosa Molto carino Questo doveva assolutamente sceglierlo Ok Prendiamo un altro ingrediente Questa scatolina è un po' particolare Perché risale A 5.000 anni fa Secondo me a 20 anni fa Quando io facevo circa le medie 18-20 anni fa 18 E Trovate tutta la mia scrittura qui Non saprei se C'è scritto qualcosa C'è scritta la data Pazzesco 3 Gennaio 2009 Ben No 14 anni fa Quindi Queste scritte risalgono a 14 anni fa Alla me 16 E qui ci sono appunto diverse scritte Che non riesco neanche a capire Proprio le ho incise nel legno E l'avevo tutta decorata Comunque Non c'entra molto con il video Facevo solo ridere E questa In questo scrigno Abbiamo Ovviamente In questo caso Delle Palline In Legno Andiamo ad aggiungerle agli ingredienti Eccole qui Fanno un suono stupendo Qui Qui Grazie a tutti. Le avvicino anche al microfono vicino a me e a questo cerco di appaggiarle il più lentamente possibile e anche questo ingrediente è andato. Adesso andiamo con... togliamo le pacchette e prendiamo queste decorazioni che è un order vero, sono l'uniche cose non in legno ma mi piacevano un sacco. Ce l'assicuriamo. E anche queste ingredienti sono aggiunti. Uno, due, tre, quarto ingrediente sono queste palline aromatizzate. Non lo so, non so che funzioni abbiano al di fuori dell'smr e non mi interessa. Ma qui vanno da palline medie perché poi abbiamo anche le palline grandi quindi palline piccole, medie e poi ci sono le grandi. Si sente anche dal rumore che sono medie e meno occulto dell'altro, no? Si sente anche dal rumore che sono medie e meno occulto dell'altro, no? Si sente anche dal rumore che sono medie e meno occulto dell'altro, no? Ma si, dai, profumano. Non sono male. Non so se vadano effettivamente tipo messe nell'acqua. Si chiamano acqua fresh quindi immagino di sì. Magari rilasceranno un po' di profumo con l'acqua. Apriamo anche le altre, queste sono, ah no, queste sono effettivamente invece il gusto acqua fresh. Comincia a formarsi la zuppetta, anzi alcuni ingredienti sono un po' nascosti. Continuiamo con questi pezzettoni di legno. Non so che tipo di decorazioni si fanno con questi, è proprio fuori dalle mie conoscenze. Andiamo ad aprirli e questi sono quelli giganti. Ci sono anche dei pezzi in metallo che non voglio. Si dipingono, cosa si fa con questa? Se lo sapete ditemelo. La bella bellezza di questo suono, scusate. Vabbè, è duro. Posizioniamo prima con le medie. E poi con le grandi. Ci siamo quasi. Anche queste sono decorazioni. Qui abbiamo appunto diversi numerini. Provo a farvele vedere più da vicino. Spero li vediate. Che carini. Ci siamo, abbiamo preparato gli ingredienti secchi della nostra zuppa. E adesso arriva per me la parte più emozionante, quella che aspetto di fare da 20 minuti. Cioè mettere l'acqua. Cioè mettere l'acqua. Questo tappo lo riconoscete? Lo tolgo e piano, 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 sperando venga bene. Ci siamo, grazie. ho creato la mia prima super in legno oddio fa un suono paradisiaco fio Grazie a tutti. Io sono assolutamente sconvolta. Grazie a tutti. Avvicino ancora di più il microfono. Aspettate. 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 Grazie. 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 Abbiniamolo un pochino anche ai sussurri. E voglio provare anche a fare una cosa, tipo a mangiarlo. Allora, prova a dare un boccone tè. Buono. Adesso do un boccone io. Buono. Un altro boccone ti ispira questo? Buono. Uno con un po' di occhietti. Prova a prendere un po' di letterine, un po' di occhietti. Eccoli. Per te. Stupendo. Ok. Allora io direi che se per voi questo video è promosso, ne faremo degli altri. Ma vi chiedo assolutamente di mettere mi piace, di farmelo capire, di lasciarmi un commento. perché solo se questo video andrà bene ne rifarò un altro. Se sarà un po' un flop, no? Quindi dipende tutto dalle vostre interazioni. In Italia non ho ancora visto fare tanto, anche se è un trend che c'è da un po', eh. Comunque questi cosini piccoli fanno un suono stupendo. Prossima volta nei complupi di questi. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui e io penso proprio, penso proprio, penso proprio, Penso proprio, 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 si aggiunta l'ora, l'ora, allora, allora ora ti 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 a passare le luci e augurarvi una buona buona buonanotte un soñitoro good good night, sweet dreams buenas noches sono pichigas de luciati, solo un teallo dulces sueños buona notte buona notte miei piccoli pasticcini un bacione calispera min turns fum com Grazie a tutti.